Non ho sentito a riceverla perché mi è giunta l'eco della sua fama. Le sono grato, anche perché so che domattina lei parte per l'Oriente, vero? Ma, sì. Le ruberò pochissimo tempo. Vorrei solo che la migliore fra le mie cavallerizie montasse quello splendido puro sangue. È una bestia pericolosa. Una buona ragione per sfidarla. Va bene. Norma? Presto, riprendi quel cavallo. Mi dispiace, avrei dovuto dare questo frustino a Norma. È d'acciaio. Ma serve a me. No, no. Ecco, il cliché originale di una banconota del suo paese. Ottimo, un accondiglio, milord. O come devo chiamarla. Andiamo, ragazzi. Ma non ci fermiamo mai. Certo che ci fermiamo, ma non qui. E voi sapete dove. Una ciliegia Fabri, per te. Gustate anche voi le ciliegie e la grappuva Fabri. Capolavori creati da Fabri con il fiorfiore delle ciliegie e dell'uva sultanina. In casa, al bar, al ristorante, ciliegie e grappuva Fabri. Perdete molto se non ne conoscete il sapore.